La tredicesima giornata del campionato di promozione Ligure fa in scena al comunale di Camporosso la sfida tra i padroni di casa e la formazione del Leggine. Questa è la partita che attendi Rosso-Blu che vengono dal pari per 0-0 dell'ultima settimana. Hanno bisogno di ritrovare i tre punti per smuovere una classifica che li vede lottare nelle ultime posizioni della stessa. Stiamo assistendo grazie all'aiuto della nostra grafica gli undici scelti da Mister Luci per la sfida di quest'oggi. Abbiamo assistito grazie alle nostre immagini alle fasi di riscaldamento pre-partita. Sono pronte a fare il loro ingresso in campo le due formazioni che scendono sul terreno di gioco in questo momento. Completino bianco per il Camporosso, completino verde invece per la formazione del Leggino. Soliti riti a centro campo saluti verso la tribuna del comunale che come ogni domenica è piena di tifosi pronti a supportare questi ragazzi. Con le immagini possiamo passare a raccontarvi del fin di questa sfida. Subito Camporosso che prova a rendersi pericoloso con l'asse Lodovici-Calvini. Quest'ultimo prova a coordinarsi col destro ma non riesce a inquadrare lo specchio della porta. Ancora rosso-blu in avanti pochi minuti più tardi con Capitan Cordì che ha dato un'occhiata in mezzo. Il suo cross si è trasformato in un tiro che per poco non beffava l'estremo difensore avversario. Leggino che ha un'occasione poco più tardi dagli sviluppi di un calcio di punizione affidato al numero 9 Romeo che prova ad andare direttamente verso la porta di Matteo Frenna che però è attento e fa sua la sfera. Anche il Camporosso avrà un calcio di punizione da distanza siderale ma Matteo Luci prova ad andare comunque verso la porta per poco. Non trova l'Euro-goal di giornata, si rimane sullo 0-0. Non tantissime emozioni in questo primo tempo sul finale dei primi 45 minuti all'occasione clamorosa. La formazione ospite per trovare il gol del vantaggio, ancora più clamoroso però è l'intervento di Matteo Frenna che con un colpo di Reni davvero campione evita il gol dell'1-0 abbiamo rivisto il suo intervento grazie al nostro rallenty. Si rimane dunque 0-0 e questo è il risultato al termine dei primi 45 minuti. Le squadre a riposo, perfetto equilibrio al comunale di Camporosso. Possiamo passare con le immagini al secondo tempo di questa sfida. Ancora la formazione del Leggino che prova a rendersi subito pericolosa con quest'azione di contropiede. Ripartenza micidiale della formazione ospite che non trova però il gol dell'1-0. Si rimane ancora in assoluto equilibrio Camporosso che si riaffaccia in avanti qui con Alemanno che prova a danzare sul pallone. Occhio però perché recupera quasi per un momento la palla in Leggino. Poi ci riprova ancora una volta il numero 6 Calvini che non riesce a dare però la giusta forza al pallone. Primi cambi per il Camporosso per cercare di trovare il gol del vantaggio. Ancora la formazione ospite però a farsi vedere pericolosamente in avanti qui col sinistro del numero 15 Torno che va un passo dal gol dell'1-0. Ancora cambi per il Camporosso. Entra anche Calcopietro in campo. Ancora Leggino in avanti qui col numero 17 Magagno che prova a liberare il Mancino. Una deviazione che inganna Frenna e passa così in vantaggio. La formazione ospite si sblocca dunque il risultato al comunale di Camporosso. La firma del numero 17 fortunato a trovare la deviazione sul gol che porta in vantaggio. La formazione ospite ancora Leggino che ci prova in avanti ancora col numero 17 Magagno che qui colpisce clamorosamente una traversa. Poco più tardi dagli sviluppi di un calcio d'angolo il direttore di gara vede uno spintone in area di rigore opera di Serra che poi protesta e si vede sventolare in faccia. Due cartellini gialli espulso dunque il difensore del Camporosso. Abbiamo rivisto tutto grazie al nostro rallenti dal dischetto Romeo però. Fallisce per l'intervento di Matteo Frenna che dice di no e mantiene così vive le speranze della sua squadra. Camporosso che però adesso sarà per il resto della partita in inferiorità numerica ci prova ancora una volta il numero 17. Ancora una volta Matteo Frenna che tiene in piedi i suoi grande partita da parte dell'estremo difensore del Camporosso che nel frattempo dall'altro lato ha un'occasione da calcio di munizione da zona interessante. Luci però non riesce a trovare lo specchio della porta. Camporosso che attacca a testa bassa. Leggino che recupera il pallone. Qui c'è una prateria per il numero 17 Magagno che può andare da solo e entra in area di rigore. Magagno questa volta Matteo Frenna non può nulla e probabilmente questo è il gol che dice la parola fine a questa partita. Doppietta per il numero 17 che sul finale avrà l'occasione anche per portare il risultato sul 3-0. Altro calcio di rigore questa volta. Pochi dubbi come invece quello precedente. Si surriscaldano gli animi. Altri due cartellini rossi. Uno per parte. Magagno nel frattempo fa 3-0. Tripletta personale per il numero 17. E triplice fischio al comunale di Camporosso. Finisce così la tredicesima giornata del campionato di promozione. finisce con una vittoria netta del Leggino per 3-0. Un saluto e appuntamento. Alla prossima!